Ebbene a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti quanti in questo nuovissimo video. Come avete letto dal titolo ragazzi, ebbene sì, purtroppo è successo perché mi sono imbattuta nel primissimo cheater veramente incredibile mentre che stavo giocando il rank del nuovo capitolo 5 di Fortnite. Ci ha messo letteralmente un millisecondo per laserarmi e non mi aveva neanche vista, infatti da lì mi avevo un pochettino puzzato la cosa perché l'ho vista un pochettino come una cosa impossibile. Infatti ho deciso di aspettarlo per tutto il restante del game per accettarmi che stesse citando e infatti ovviamente avevo ragione perché ne ero sicura di questa cosa ovviamente l'abbiamo segnalato e chiaramente alla fine è stato fortunatamente bannato, quindi grazie Epic. Ma prima di cominciare con i video ragazzi vi voglio parlare di questo gioco fighissimo di nome Match Masters. È un gioco free to play dove è possibile giocare in uno contro uno in solo contro giocatori di tutto il mondo è possibile anche inoltre scalare le classifiche e giocare con i propri amici creando delle partite private dove potete divertirvi e darvi le botte a vicenda. Ci sono tantissimi emoticon super divertenti da utilizzare per rimpostituire il nostro avversario tra cui la mia preferita è quella del maialino che si sbatte la manina sulla faccia. Personalmente quella lì mi fa letteralmente infazzire. Inoltre abbiamo diverse skin da sbloccare e utilizzare e infine abbiamo anche le animazioni per quanto riguarda la vittoria. Ci sono vari bonus che possiamo scegliere prima di entrare in ogni partita e ognuno di essi ha ovviamente una particolarità che è quella di facilitarci nell'ottenere più punti possibili. L'obiettivo è quello di fare più combo di colori possibili per poi arrivare ad attivare il boost finale. È l'ora del serpente. Sgancia! Sgancia tutti! Easy! Il potere del serpente! Quindi ragazzi vi invito a provare il gioco perché è davvero super divertente e inoltre vi ricordo soprattutto che è free to play. E tramite il QR code che trovate qui in alto a destra o il link in descrizione riceverete una Christmas finata con dentro tantissimi regali. Quindi approfittatene. Inoltre ringrazio infinitamente Matchmasters per questa fantastica opportunità e adesso possiamo proseguire con il nostro video. Che mi ha dato? Lo sniper così? Eh vabbè accontentiamoci. Ha il 4x almeno? No non è il 4x. Eh vabbè quindi è uno scam totale. Ah questo quindi è il mio lutto finale? Ah ho capito. Molto male oggettivamente parlando. Vabbè andiamo alla tavoletta dai vediamo se c'è qualcuno. Ma spererei di no perché con questo lutto non posso federe nessuno. Sta citando ragazzi. Sta citando. No ragazzi sta citando ragazzi sta citando. L'ha traccato pure attraverso il muro. Ragazzi questo qua sta va a fai tante ma ha fatto un 180 gradi e mi ha fulato di scar. Sta citando ragazzi. Sta citando. L'ha lockato subito attraverso il... No citta ragazzi. Impossibile. Ragazzi ma ma che stai dicendo? No raga citta. Guarda come lockano le persone. Guarda come lockano le persone nei box. No raga. No 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 no. Qui sto citando potentissimo. Ma cosa sto dicendo? Ma cosa sto dicendo? Sì 14 kill Si è fermato perché sta disattivando i cheat probabilmente Vi vorrei far notare una cosa Giusto per farvela notare Account nuovo 36 ore di gameplay Sta citando come un cane Sta citando come un cane sto qua Guarda come locka la testa Guarda What the fuck Se ci muore Guarda la tracca Si 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 ha dormito meglio Lui è un fenomeno Che schifo ragazzi Lui sa già tutto Lui sa già tutto ragazzi Lui sa già tutto ogni cosa Ha 5 medaglioni 5 medaglioni Max 190 che ha fatto 190 ragazzi 190 Ne buscio un altro Guardate come lo locka Guardate come lo locka con la testa Guarda guarda guardate il minio Un fenomeno L'altro no morirà Pronti 3 2 Guarda come lo locka Lo locka perfettamente Lo locka perfettamente Lo locka perfettamente No vabbè ragazzi che schifo Cioè è assurdo Ha tutto al massimo Questo non è un soft aim Dici che magari da detectare È un pochettino più semplice Cioè un pochettino più difficile Questo ha tutto maxato Frate Ora è nato run di nuovo A modificare le cose Eh mirare con queste armi È più difficile Anche cheat fanno difficoltà Perché hanno una cadenza Non dritta Non è dritta la cadenza Che fastidio Che fastidio Va bene Va bene vai Ah Quello lì dietro all'albero Sapeva che era lì per miracolo Wow Incredibile Lui è l'occhio bionico Signori Lui è il migliore al mondo Lui predicta Dove sono i nemici Lui locka Locka le teste Lui locka le teste Uuuu Non è cheat No Ma non vedi che prima Mi sono tutti i colpi Vipax è appena arrivato in live E hai visto una laserata In volo Che non ha funzionato Perché le armi nuove Hanno una cadenza Che il colpo Se non so come funzionano gli FPS Il colpo non va dritto Cioè se tu metti la rosa lì Il colpo non va lì Il colpo va dritto Ma poi tende a scendere Infatti il personaggino Si blocca Si mette nei bush Per migliorare il suo aimbot La cosa grave È che questo player È ancora in partita A rovinare i match Cioè a rovinare questo match E altri match A tante persone E non viene ancora bannato Cioè qua non stiamo parlando Di un fenomeno Tipo che dici Lo zen Che magari No Marti Croato Mist Ma cosa dici Non cita È un bravo giocatore Si Hai ragione fratello Hai ragione You You have ragionations Ha dormito meglio di me lui Esatto Lui ha il mangego sharingan di Tachi Ve lo dico io Ah questo qua è palesemente Danzo Ha preso tutti gli sharingan Se li hai messi tutti quanti nel braccio E con la mano del mouse Riesce a mirare in automatico Avete ragione effettivamente Scusatemi Rettifico Si è messo qua Perché si gioca la 50 dopo qui Se ha pure le città della zona È un mostro Se questo qua C'ha pure le città della Altro del cavodanno senza luci in casa La cosa grave La cosa grave È che Flex ha pure gli edit Quindi non è nemmeno un giocatore casuale Questo qua è uno che veramente avrà grindato Avrà Avrà giocato Avrà fatto qualcosa Quindi è ancora più grave Questo ha pure buildare frate Voglio dargli una possibilità Vedi Guarda che sta trollando Dai gg Madonna ragazzi Mi vorrei cavare gli occhi In questo momento C'era quasi morto Mio dio Oh mio dio C'era quasi morto Io ve lo giuro Che se non mi Io ve lo giuro Che se non mi arriva Tipo entro stasera O entro domani Il messaggio del fatto che sono bannato Io ve lo giuro Io scrivo Epic Games Mi faccio dare subito la Mi devo fare Sapete cosa devo farmi dare Epic Games Mi devo fare dare il Il coso della segnalazione istantaneo Proprio subito Me lo devo far mandare Cioè ve lo devo far dare Per forza Che tanto si può richiedere Perché non è possibile ragazzi Cioè non è concepibile Cioè il fatto che Avete visto Comunque sapeva Comunque un minimo anche buildare Editare Quindi non è che dice Era un player nuovo Infatti avete visto Che era con l'account nuovo Perché l'account Magari l'account suo Questo è stato anche bannato Ma sicuro l'avranno bannato Ma 100% Cioè Figurati Come mi ha ucciso Frate Guarda quanti ne ha fatti Oh mio dio Guarda 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 Lui qua Lui qua si è accorto Che stavo venendo Perché c'ha ovviamente il wallah Quindi riuscivo a vedere tutto Vedi Io ero qua vedi Lui ora si gira a destra Ora guarda lì Sotto la montagna E sa che io stavo arrivando E non è che dici Mi ha visto Cioè Mi ha visto col wallah Perché dalla visuale Non lo vedi Infatti Ora arriva la cosa bella Ora lo lock in testa Normale laserato in Ohio Normale max in Ohio GG Normale max così a random Pronti pronti raga guarda eh Lui fa da con lui Guardate cosa fa adesso Preparatevi Preparatevi Intanto gli fa max anche a lui Guardate cosa fa adesso Mi ha visto Attraverso le mura Vai nei ground Guarda 3 2 1 Imbarazzante ragazzi Io mi avvicino Piano piano Lui va in high Cerco di capire Mentre fightano Cioè Cioè Nel senso Qua il time reaction Non è una cosa Minimamente Possibile Questo non è neanche Un secondo Cioè se lo andiamo a calcolare Non è nemmeno un secondo Capisci Signori 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 La persona che oggi ho reportato Che cittava L'hanno bannata Dopo 8 ore Che questa persona Ha giocato su fortinet Ha rovinato il gameplay A o non so quanti giocatori Finalmente Il cheater da me è spottato È stato Permabannato Godo Grazie a tutti Grazie a tutti